Cos'è pronto? Che devi fare? Mi sono andato a queste tre e chiederò di qualsiasi faccio le pressioni Vai! Eh? La spagata è spalletta! Vai Marco! No! Irmai il signore posso fare? Ve le faccio conoscere! No! Ci vai e gli dici guardate come faccio le pressioni! No dai questo no! Marco stai sotto la telecamera! Vai vai vai! Stai sprecando filmato! Vai Marco! È troppo è troppo! Ma che è troppo? Io ci annoavo se perdevo! No no! Anzi ero pure contento! Lo fai! Vai la e gli dici scusate ragazzi devo passare in mezzo a voi! Io devo fare così a queste qua e qua! No no! Questo è il messo! No no! Vai la e gli dici ragazzi guardate come faccio le pressioni! Quanto c'ha dei secondi sta cosa? Ma non è proprio queste penitenze lì! Su! No dai! Vai e fa la penitenza che non so che deve fare qualcosa così! Vabbè allora! Con questo te ne ha più la canolla! No no! Ma dai eh! Con quelli che menti vuole non vorre me! Questa cosa farà venire il mal di mare! A chi vedrà questo filmato! Il mal di mare! Vai Marco! Ma è una cosa stupida! Ma che stupido!